Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di carboidrati e tratteremo nello specifico i monosaccaridi. I carboidrati costituiti da carbonio, idrogeno ed ossigeno sono i composti organici più abbondanti in natura e rappresentano un gruppo di sostanze di enorme importanza in tutti i processi vitali degli organismi viventi. Nelle cellule vegetali l'anidride carbonica e l'acqua si combinano tra loro per formare il glucosio. In questo processo noto come fotosintesi clorofilliana migliaia di molecole di glucosio si combinano per formare le grosse molecole di cellulosa, materiale di sostegno per le piante e le stesse molecole si possono combinare in maniera un po' diversa per dare origine a molecole di amido. I carboidrati costituiscono la fonte principale della maggior parte dei cibi, quali frutta, pasta, cereali e loro derivati, ma vengono anche utilizzati per la produzione di tessuti per vestiario come il cotone ed il lino. In base alla loro struttura i carboidrati sono classificati in monosaccaridi, ovvero carboidrati che non è possibile scindere in composti analoghi più semplici, oligosaccaridi costituiti da 2 fino a 9 unità di monosaccaridi, olisaccaridi quando sono costituiti da unità di monosaccaridi superiori a 10. I monosaccaridi vengono divisi in due grandi gruppi. Uno di questi si caratterizza per la presenza di un gruppo funzionale adeidico, l'altro per la presenza di un gruppo funzionale chetonico. Pertanto i corrispondenti monosaccaridi vengono indicati col termine di aldosi oppure chetosi. Inoltre nei carboidrati sono presenti gruppi ossidrilici, i quali aumentano proporzionalmente al numero degli atomi di carbonio. Pertanto i monosaccaridi possono essere definiti nel modo più semplice come polidrossialdeidi o polidrossichetoni. essi hanno formula bruta CnH2nOn dove n è uguale o maggiore di 3. I monosaccaridi non presentano ramificazioni e ciascun atomo di carbonio eccetto uno contiene un gruppo ossidrilico. Al rimanente atomo di carbonio è attaccato invece un ossigeno carbonilico. Se il gruppo carbonilico è all'estremità della catena il monosaccaride è un derivato aldeico ed è chiamato aldoso. Se è in qualche altra posizione il monosaccaride viene chiamato chetoso. I monosaccaridi più semplici a 3 atomi di carbonio sono la gliceraldeide e il didrossiacetone. La gliceraldeide è un aldoso e più precisamente un aldotrioso perché ha tre atomi di carbonio mentre il didrossiacetone è un chetoso e in questo caso è definito come chetotrioso. Tra i monosaccaridi possiamo trovare molecole a 4 atomi di carbonio chiamati tetrosi, molecola a 5 atomi di carbonio chiamati pentosi, molecola a 6 atomi di carbonio chiamati esosi. Sono anche presenti gli eptosi e ottosi ma i più abbondanti in natura sono quelli costituiti da 5 a 6 atomi di carbonio. Tutti questi monosaccaridi possono essere sia aldosi che chetosi. Tra i monosaccaridi troviamo tantissime molecole che presentano la stessa formula bruta ma dalle differenti caratteristiche chimico-fisiche. Ne sono un esempio il glucosio, il mannosio e il galattosio. La branca della chimica che affronta la peculiarità di queste specie chimiche è la stereoisomeria la quale studia quei particolari isomeri aventi stessa formula bruta i cui atomi sono collegati nello stesso ordine ma che differiscono per la loro disposizione nello spazio. Tutti i monosaccaridi, eccetto il didrossiacetone, contengono degli atomi di carbonio asimmetrici. Le molecole che ne derivano non posseggono piani di simmetria e sono quindi definite molecole chirali, cioè non sovrapponibili, così come accade se volessimo sovrapporre la nostra mano sinistra a quella destra. Un atomo di carbonio chirale quando è legato a quattro diversi sostituenti. Le coppie di molecole che esistono come immagini speculari l'una dell'altra e che non sono sovrapponibili sono chiamati enantiomeri. Ad esempio la gliceraldeide contiene soltanto un atomo di carbonio asimmetrico e pertanto esiste sotto forma di due stereoisomeri diversi che se classificati secondo la convenzione di Fischer prendono il nome di D-gliceraldeide ed L-gliceraldeide. Per stabilire il numero di isomeri a cui può dare origine un carboidrato si applica la regola di Van Toff e cioè il numero di stereoisomeri presenti in ogni monosaccaride è equivalente a 2 alla n dove n è il numero di carboni chirali. Consideriamo la famiglia della serie D degli aldosi. Come è possibile notare gli aldotetrosi hanno due atomi di carbonio asimmetrici e gli aldopentosi 3. Gli aldoesosi hanno quattro atomi di carbonio asimmetrici ed esistono sotto forma di 16 stereoisomeri diversi 8 appartenenti alla serie D e 8 appartenenti alla serie L. Per stabilire l'appartenenza alla serie D o L si prende in considerazione il gruppo siderile più lontano dal carbonio carbonilico. Se il gruppo H è posto a destra apparterrà alla serie D mentre se è a sinistra alla serie L. Quando due carboidrati differiscono tra loro unicamente per la configurazione di un solo degli atomi di carbonio chirali sono definiti epimeri. Ad esempio il glucosio e il galattosio sono epimeri in quanto cambiano la configurazione rispetto al carbonio 4. Analogamente il dimannosio è epimero in C2 del diglucosio. Analogo discorso va fatto per i chetosi i quali però sono caratterizzati da un atomo di carbonio chirale in meno rispetto ai corrispondenti aldosi e quindi presenteranno un numero minore di isomeri. Sempre in base alla regola di Van Toff essi presenteranno la seguente serie. E come è possibile notare i carboidrati a 6 atomi di carbonio avranno 8 isomeri di cui 4 appartenenti alla serie D e 4 alla serie L. Vediamo ora di parlare di un importantissimo fenomeno che avviene quando poniamo in soluzione acquosa e a pH cellulari i monosaccaridi come il glucosio ed il fruttosio. Si è notato che essi si comportano come se avessero un carbonio chirale in più rispetto a quello che si osserva nelle formule a strutturali a catena aperta. Per spiegare tale fenomeno si è ammesso che questi monosaccaridi in realtà non si trovano in struttura a catena aperta così come abbiamo visto sinora bensì ciclica. Prendiamo come esempio il D glucosio e confrontiamo la sua struttura a catena aperta con quella ciclica. La formazione della struttura ciclica deriva dalla spontanea reazione che avviene tra il gruppo funzionale carbonilico con uno dei gruppi ossidilici presenti nella struttura del carboidrato stesso. Questa reazione dà origine alla formazione di emicetali. Nel caso del glucosio la reazione avviene tra il gruppo aldeidico e l'ossidrile in posizione 5. Come è possibile notare dalla numerazione degli atomi di carbonio il carbonio carbonilico diventa un ulteriore centro chirale che non era presente nella struttura a catena aperta e ciò andrà a generare due ulteriori stereoisomeri definiti più correttamente come diasteroisomeri che sono indicati col termine di anomero alfa e anomero beta. Secondo la proiezione di Haworth il D glucosio può esistere quindi in due forme isomere l'alfa di glucosio e il beta di glucosio. Nell'alfa di glucosio il gruppo ossidrile in C1 è proiettato sotto il piano della molecola mentre nel beta di glucosio il gruppo H in C1 è proiettato al di sopra del piano della molecola. Le forme ad anello derivanti sia dagli aldosi a 5 atomi che a 6 atomi di carbonio sono chiamate piranosiche perché sono derivati del composto eterociclico chiamato pirano. Pertanto il nome sistematico da attribuire alle due forme isomere del D glucosio sarà alfa D gluco piranoso e beta D gluco piranoso. Analogo discorso se consideriamo il fruttosio in questo caso la reazione si genera tra il gruppo chetonico con il gruppo ossidrile in posizione 5 e avremo la formazione di un emichetale. In questo caso le forme ad anello derivanti sia a 5 che a 6 atomi di carbonio sono chiamate furanosiche perché derivanti dal composto eterociclico chiamato furano. Anche le forme ad anello dei chetosi a 5 e 6 atomi di carbonio esistono nelle forme anomeriche alfa e beta. Pertanto il nome sistematico da attribuire alle due forme isomere del D fruttosio sarà alfa D frutto furanoso beta D frutto furanoso. Detto ciò vediamo di passare in rapida rassegna i più importanti monosaccaridi. I principali monosaccaridi sono il glucosio e il fruttosio. Entrambi sono solidi cristallini bianchi dal sapore dolce e solubile in acqua. Il glucosio detto anche zucchero dell'uva è il monosaccaridi più diffuso in natura dove si trova soprattutto come unità polimerica di amido cellulosa e glicogeno. Il fruttosio anch'esso molto diffuso nel mondo vegetale ha un potere dolcificante superiore a saccarosio e si trova prevalentemente nella frutta e nel miele. Il galattosio è un monosaccaride che generalmente non si trova allo stato libero ma è abbondante allo stato combinato ed è uno dei costituenti del lattosio ma è anche presente nella barbabietola da zucchero. Il manosio è il costituente fondamentale dei polisaccaridi e delle glicoproteine. È poco presente nell'alimentazione umana ma essendo un componente della parete cellulare dei batteri diventa un target selettivo della risposta immunitaria e di alcuni antibiotici. Tra i pentosi troviamo il ribosio, componente strutturale degli acidi nucleici come l'RNA e nella sua forma ridotta cioè il deossiribosio nel DNA. Il ribosio è inoltre un importante costituente di molti coenzimi quale il NAD, il FAD e l'ATP. L'arabinosio è il componente fondamentale di molti polisaccaridi quali le hemicellulose e le pectine.